Perché non riesco a metterli in schermo intero per dici? Che fastidio! Ma non è possibile che esista una cosa così, dai! Non può! Ma la cosa bella è che se uno con vendi 4550 al loop e ti sarà qui da tipo un'ora Tutto il red on stink bug No, ma devo pagare per sta cosa! Ma stiamo scherzando! Ma c'è la tua testa! Ma chi è questa simp zappa che ha 24500 che ci fa passare i stick bug out? No, ma io riesco da questa cosa! Madonna!